L'hip hop, all'inizio degli anni 70, nasce nel Bronx e permetteva ragazzi afroamericani e latinoamericani, spesso emarginati, di interagire tra loro, comporre musica e sentirsi liberi. A 50 anni di distanza, un gruppo musicale, il Rap Against Dictatorship, tramite i brani pubblicati su internet, stanno denunciando i sopprusi che il governo militare thailandese sta perpetrando nei confronti della popolazione. A dispetto di una inefficace censura, questo evento potrebbe influire drasticamente sulle prossime elezioni in Thailandia. Dieci anni fa, in una mailing list di criptografi, un utente sotto lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto condivide un documento, Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system. All'interno di quel documento, tra le fondamenta che permettevano a Bitcoin di funzionare, abbiamo l'innovazione della blockchain. Ma che cos'è questa innovazione di cui sentiamo tutti parlare e che continuiamo a ripetere che cambia il mondo? Immaginate di avere un'informazione, di voler rendere questa informazione immutabile, contestualmente di voler verificare in maniera istantanea l'integrità di questa informazione, di attribuire a questa informazione una data certa e di essere certi che il possesso di questa informazione sia in mano vostra. Ora, quest'ultimo concetto soprattutto è ossimorico se si pensa al concetto di informazione, che per sua natura è infinitamente replicabile e duplicabile. Come possiamo riappropriarci dell'informazione? Vi chiederei di fare con me un piccolo esperimento. Ognuno in sala lo pregherei di, tramite l'applicazione note del proprio cellulare, segnare delle informazioni che condivideremo. Così come io segnerò alcune informazioni, vi prego di replicarle fedelmente. Tutti sappiamo che la fila 1 è occupata, lo possiamo vedere. Però senza vedere in faccia e chiedere un'identificazione formale alla persona seduta nella fila A al posto 1, non possiamo essere certi della sua identità. Quindi sotto lo pseudonimo di A1 che io vado a scrivere sul mio cellulare, vi prego di fare altrettanto, a fianco immagazzineremo un dato. Ora signora, se per favore mi vuole dire un numero ipotetico, immaginario, che però faremo finta rappresenta il saldo del suo conto corrente. Prego. Ok. Allora io sto segnando 25, così come vi prego di fare altrettanto. Ora, stessa cosa la possiamo fare per il posto occupato della persona in A2. Prego. Ottimo. Ora io potremmo continuare all'infinito, tanto fino a riempire i posti di questa sala. Ora, nel mio registro è presente l'informazione che in A1, c'è sotto lo pseudonimo A1, ho 25 unità. Siamo tutti sincronizzati, abbiamo tutte queste informazioni sui nostri smartphone. Inseriamo una dinamica sociale adesso. Ipotizziamo che io sia un ente centrale. Se l'informazione che ho registrato sul mio cellulare è un'unità di conto, facciamo gli euro, come abbiamo ipotizzato nel caso del saldo del conto corrente, allora rivesterò il ruolo di banca centrale. Se invece avessi registrato una proprietà immobiliare, allora rivesterò il ruolo di catasto. Quindi diciamo che io sono l'ente centrale. A questa informazione io ho il potere di fare tutto ciò che la legge mi consente di fare, del tipo una patrimoniale. Posso sottrarre cinque unità di valore da ogni singolo account presente, addebitarle, accreditarle su un altro account e di conseguenza sottrarla al totale. Oppure potrei applicare un pignoramento, tipo a zerare il valore dell'account a due. Voi tutti sareste obbligati a sincronizzare i vostri registri a seconda delle informazioni presenti sul mio. Siamo tutti abituati a dialogare con enti centrali sotto diversi profili, essi controllano e hanno il possesso dei nostri dati, gli affidiamo le nostre proprietà. Siamo stati abbastanza fortunati. Nella società in cui viviamo non abbiamo avuto grandi scompensi. Ma lo stesso non possono dire i contadini dell'Honduras, ad esempio, che nel 2014 hanno visto comparire dei certificati di proprietà delle loro terre, però intestati a persone diverse o a compagnie private. La blockchain ha un sistema diverso di consenso che si regge su un paradigma. L'assenza totale di fiducia. Non vi dovete fidare di un ente centrale perché i detentori dell'informazione, quindi noi tutti che abbiamo segnato sui nostri dispositivi il registro, siamo parte dello stesso funzionamento. Questo avviene grazie a delle regole matematiche che ora proveremo a vedere insieme. Entriamo più nel dettaglio grazie a un applicativo di Andreas Bromworth che ringraziamo, un applicativo che possiamo trovare sul web. Qui vedete più o meno replicato quello di cui stavamo parlando prima. Rispetto all'account a 1, i saldi qui sono ipotetici, potremmo aggiornarli. Notate che l'hash, ossia quel numero di fatto, è un numero espresso in formato esadecimale enorme, cambia a seconda che io vada a cambiare l'informazione presente qui in bianco. Se aggiungo anche solo uno spazio, cosa che ho appena fatto, l'impronta digitale cambia. Questa impronta digitale mi garantisce che le informazioni qui presenti sono registrate e sono quelle in maniera univoca. Andiamo ad aggiungere qualche informazione di ingresso, giusto per avere qualche altro dato, o il numero di blocco. Questa, impronta digitale, 9149, viene restituita perché ho un numero in ingresso del blocco, ho i dati da me inseriti, e poi notate che c'è nonce, ossia un numero occasionale. Io ora ci diamo una regola, matematica, tutti quanti. Decidiamo che questo blocco, per essere valido, deve avere quattro zeri all'inizio. Chiediamo al computer di trovare un numero occasionale che insieme ai dati che abbiamo messo ci validi questa regola. Questo rende la validità del blocco. Appena io andrò a modificare l'informazione, quel numero occasionale non sarà più valido, non andrà più bene. Avrò bisogno di un nuovo numero occasionale che mi ridia un'impronta digitale valida. Notiamo però che quell'impronta digitale con quattro zeri è diversa di volta in volta. Questa inizia 4063 la nostra impronta digitale originaria è con 4046 eccetera. Sono tutte impronte digitali diverse perché hanno all'origine dati diversi. Blockchain però significa catena di blocchi. abbiamo una catena. Come la costruiamo? Mettendo tra i dati di input l'impronta digitale del blocco precedente. Qui ad esempio nel blocco 1 e nel blocco 2 A4, quindi l'utente seduto in A4, ha effettuato un pagamento nei confronti dell'utente A5. Ha ceduto 7 unità di valore. Quelle 7 unità di valore potrebbero essere tranquillamente 7 bitcoin che a quel punto ci chiederebbero una validazione e il sistema mi restituisce un numero di nonce occasionale che permette al blocco di essere validato. Perché questa cosa è fondamentale? Perché nel momento stesso in cui A4, che è un ente malevolo, volesse riappropriarsi dei suoi 7 bitcoin, la cosa che andrebbe a fare è modificare il dato archiviato sulla blockchain. Quindi togliendo lo 0 e rimettendosi il 7 dovrebbe riminare il blocco ma i blocchi successivi continuerebbero a essere invalidi. Perché? Perché l'impronta digitale che vi era archiviata è diversa dalla nuova impronta digitale che è il blocco 2, quindi con l'operazione malevola gli sta provando a dare. A4 però potrebbe essere un ente centrale, potrebbe essere un ente certificato, potrebbe avere un'infinita potenza di calcolo, potrebbe avere la voglia e le capacità tecniche di ricostruire tutta la blockchain con la sua operazione malevola. Proviamo a farlo. Quindi il blocco in A4, anche nel blocco 3, verrà riportata la nuova informazione, verrà ritrovato questo numero occasionale, il blocco avrà una nuova impronta digitale valida, ma c'è un problema. Il problema del consenso. A4 è solo uno degli utenti che ha la copia della blockchain. La stessa blockchain è distribuita e presente in tutti gli operatori presenti all'interno della rete. Quindi mentre A4 si starà dannando l'anima per cercare di portare a compimento la sua operazione malevola con una potenza di calcolo infinita nel minor tempo possibile, subito gli altri operatori della blockchain diranno non sei la maggioranza, sei solo un attore di tutti noi e quindi al secondo zero e strometteranno l'operatore malevolo. Ora abbiamo detto che l'informazione è il segreto. Ora proviamo, proviamo a questo punto a immagazzinare un'informazione. se mi dice anche il suo nome per favore. Creiamo il numero, un numero esadecimale che in realtà verrà inserito all'interno di una transazione nella blockchain di bitcoin. Lo sto facendo da linea da linea di codice ma può essere creato da diversi applicativi. la transazione è stata inserita all'interno della blockchain. Questo numero è un numero identificativo che io posso inserire in un qualsiasi block explorer e chiedere all'interno della blockchain di bitcoin di restituirmi l'informazione. È perfettamente arrivata. Saluti da Paola dal TEDx Bari Salon.